La vicenda del film ritirato dalla Sony a essa stessa l'aspetto di una pellicola cinematografica. Gli investigatori dell'FBI sono convinti che i pirati informatici che hanno attaccato la casa produttrice siano nordcoreani. La minaccia di attentati ha spinto Sony a cancellare l'uscita prevista per Natale di The Interview, commedia su un complotto della CIA per assassinare il leader di Pyongyang, Kim Jong-un. Non sarà disponibile neppure on demand. Si tratta delle persone più talentuose in Corea del Nord, spiega uno studioso parlando di Yekar. Fanno parte della classe dei colletti bianchi che ricevono un migliore trattamento, sono molto apprezzati e rispettati nella loro società. A fine novembre Yekar si erano introdotti nei computer e nei server di Sony. Ora sono arrivate nuove minacce dai cosiddetti guardiani della pace, più concrete, attacchi nelle sale cinematografiche statunitensi stile 11 settembre, così queste ultime hanno cancellato il film dalla programmazione. Credo che quando la minaccia si è spostata dal mondo virtuale a quello tangibile, ci sia stato un effetto domino. Perché prima, quando si trattava soltanto di fughe, questo non riguardava il pubblico nel modo in cui invece accade adesso. Quando si parla di danni fisici, allora è inevitabile una scelta come questa. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i risultati dell'indagine statunitense sugli attacchi informatici, con i quali furono sottratti i dati personali dei dipendenti di Sony e film non ancora distribuiti. Il ritiro della pellicola, definita da Pyongyang un atto di guerra, è stato contestato da diversi attori hollywoodiani che accusano Sony di aver ceduto al ricatto.